Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, sono Novi di SondayTv E ho intanto notizie su Cat Mario Ora, visto che è troppo alta No, 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 è un livello 1 Ho sbagliato Ho sbagliato, ho sbagliato Eravamo Arrivati Eravamo arrivati E' un casino Qui, qui, eravamo qua Vai Vai Ragazzi Questo secondo episodio Di Cat Mario Era meglio se non lo facevo Perché aiutavo tutti Allora, perché Un dito Non l'ho mai conosciuto Non ho ancora Anche di questo Era meglio No, vedi che sono di coglioni Allora, ragazzi Scusate di me Scusate di me Scusate di me Io non me lo ho richiesto Perché voglio essere Dificialmente un ragazzo Di vero Di vero di tutto Dove Dove I vecchi giochi Dove Lo chi addio santo non ci fosse quella colonna lì io la musica è una merda forse no no adesso dovete dirmi solo una cosa una piccola cosa perché solo sapere il perché io vorrei incontrare un abbraccio no dai mi devi saltare il gatto di merda non so neanche perché l'ho fatto porca puttana ragazzi che cazzo ma questo è stato qua questo è stato io perché mi sono fermato nooo finché mi sto ammazzando vaffanculo mi sto ammazzando non è possibile cazzo non è possibile cazzo non è possibile cazzo sì sì bella 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 tutta questa politità grazie è la prima volta che ti parlo odio per poi la prima volta porca puttana veramente no veramente ragazzi non riesco a superare sto pezzo di merda non riesco a superare sto ultima volta ok sono ritornato non è possibile ciao ragazzi iscrivetevi ciao